Ancora 10 minuti e il corteo arriverà in piazza Fatemi, dove la polizia li aspetta, è possibile ci siano degli scontri. Ecco l'incursione e la reazione, morte a vita e morte, hanno trovato dei poliziotti isolati e questa volta le stanno prendendo loro. L'hanno preso, l'hanno preso, l'hanno preso, c'è il rischio di un linciaggio, c'è il rischio di un linciaggio. Lì sotto, in mezzo a quella gente, c'è un poliziotto antisommossa. Eccola la moto del poliziotto, che è stato preso ed è stata trucciata. Questa è la prima vittima. Ecco il poliziotto, ormai rissuato delle sue armi. Ecco, ecco, viene portato. Ecco, ecco! Non sono più grandi dure Sì! Bebisci! Sono più grandi! Siamo più grandi! Ho detto che c'è il rischio! Ho detto che sono più grandi! Bebisci!